Segnaposti autunnali, facili e carini. Li abbiamo! Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Se vedete volare pulviscolo non è pulviscolo, aiuta il materiale con cui faremo oggi i nostri segnaposti autunnali. Perfetti per l'autunno, perfetti per Halloween. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come si fanno. Ed ecco l'occorrente per fare le nostre zucche decorative perché queste sono bellissime ma marciscono molto molto velocemente. Io ne voglio fare un tipo che rimangano perenni e a lungo. E allora cosa mi occorrerà? Dell'aiuta, questa volta io l'ho scelta naturale ma possiamo sceglierla anche del colore con cui ho fatto la zuccona grande. Vi lascio il link nell'info box. Poi dello spago, delle stecche di cannella, una per ogni zucchetta. E ci occorrerà anche un piccolo cartoncino per ogni zucchetta che vorremmo fare. E della cannella in polvere, forbici, pistola per colla a caldo con relativa a stecca. E iniziamo subito. Questa juta io l'ho comprata al Lidl, è un sacco per le piante ma potete anche usare i sacchi di patata. Ho qualunque tipo di stoffa perché viene questa tecnica con qualunque tipo di stoffa. Taglio una striscia di juta larga circa 10 centimetri. Ok, tagliata la nostra striscia di juta, prendiamo una lunghezza di 80 centimetri, quindi 10 per 80. Più lunga la farete, la striscia più la zucca verrà bella piena e tondeggiante. Adesso pieghiamo bene la nostra stoffa creando una sorta di tubolare che sia di 4 centimetri circa. Verrà di 4 centimetri perché rabboccando all'interno i margini per farla venire tutta sistemata e pulita, senza orli che sparino i capetti di juta a destra e a sinistra, prenderemo un centimetro circa da ogni lato. Quindi, come facciamo? Prendiamo la colla a caldo, sporchiamo leggermente l'orlo dell'aiuta, così. Potete utilizzare anche la colla normale e ripiegando così su se stessa l'aiuta, adagiamola sopra e facciamola aderire. Potete usare anche la colla comune, impiegherete un po' più di tempo ma riuscirete lo stesso nell'intento. Arrivati a questo punto avremo questo bel tubolare di juta, ombretta direte, ma cosa c'ha di bello? Nulla, però vedrete tra un po'. Prendiamo un filo di corda, io mi aiuto con un ago ma potete legarlo anche a una spilla da balia, va benissimo lo stesso, e poi inserisco e faccio, anzi con la spilla da balia vi verrà pure meglio, perché vedete l'ago tenderà ad andare nella trama, quindi dovrò essere brava a non farlo andare, e faccio scorrere il filo all'interno del tubolare. A questo punto prendete il capetto che c'è dall'altra parte e non lasciatelo per nessun motivo al mondo, perché se lo perdete adesso avete vanificato tutto il lavoro, tirate fuori l'ago e tirate, tirate, tirate la vostra zucchetta, quindi fate un nodino, uno e due e tagliate i capi. Adesso sistemate all'interno, infilate la cannella, io non metto neanche la colla a caldo, e modellate l'ondulatura, così, della vostra aiuta, fino a quando non sarete soddisfatti del risultato. Se c'è qualche capetto che fuoriesce, sistematelo, e voilà. La vostra zucchetta decorativa, io le ho pensate come dei segni a posto per la tavola autunnale, è bella e pronta. Non è un amore, una davvero, un'idea veramente semplicissima, fatta in maniera carina, sviluppata in maniera aggraziata, può diventare uno stupendo segni a posto. Basterà un piccolo cartoncino, ora, con una matita, disegno una pseudo fogliolina di zucca, qua faccio questa cosa, ora vi faccio vedere perché, e ritaglio, piego un po' la fogliolina a metà, le do un pochettino comunque la piegatura, forbicine, piego il cerchietto, e taglio un buco al centro di questo cerchietto, voilà, in modo che rimanga un cartoncino così forato, con una penna scrivo il nome del commensale, quindi prendo la mia cannella, la butto sul cartoncino e lo coloro col dito un pochino, e semplicemente inserisco l'anellino dentro la stecca di cannella, capito? Perché rimangono per sempre, perché poi finito il pranzo, cambiamo il cartoncino, che sarà pronto anche per un altro commensale, però guardandola, mi verrebbe anche da fare questo, vi faccio vedere, eh ragazzi, io sono così, mentre faccio i progetti di sfo e rifaccio, vedete, vi stavo per salutare, ma poi mi viene lo schilibizzo, e allora faccio un buchino qui, quindi piano piano forate, prendete un mini pezzettino di filo e poi legate la fogliolina, molto più carino, vedete? al gambo. Questo è il tipico esempio di come la creatività migliora esercitandola, quindi si mimetizza, non c'è quel bianco tutto attorno, sta benissimo con la composizione, adesso qua la stringo, anche questa può essere sfilata, è questa parte cambiata ogni volta che abbiamo un pranzo o una cena, ed ecco i nostri segnaposto, bellissimi, al profumo di cannella, che richiamano proprio questo bellissimo periodo dell'anno, che è l'autunno, perfetti anche per il periodo di Halloween se siete soliti festeggiarlo. Bene, io vi lascio alle foto e noi ci vediamo per un prossimo video creativo. Ciao, lasciatemi detto se vi piacciono. Ciao ciao! Visto che belli i nostri segnaposto, guardate, qui c'è quello di Gabriele, qui c'è quello di Enzo con le loro foglioline personalizzate e naturalmente, naturalmente, c'è anche la mia zuccotta, me li hanno bocciati tutti, io li adoro, li trovo di una finezza e di una carineria incredibile. La mia migliore amica ha detto hai fatto di meglio, Gabriele ha detto ma non vuoi pubblicare questo video? Quindi, quindi, dobbiamo contraddirli e ditemi che anche voi abbracciate il mio gusto, così, un po' rustico, un po' country, immaginate queste zucchette con una bella tovaglia rustica in lino grezzo, bellissime, di qualunque colore, verdone e crupa, che c'è? Di qualunque, che c'è? di qualunque, c'era una bambina che si lamentava, di qualunque colore, verdone e cru, panna, sono dei complementi di arredo, veramente, veramente, ce li piacciono, veramente, veramente, graziosissimi, poggiati sul tavolo con la cannella che richiama appunto gli alimenti, io credo che siano un segnaposto molto fine e discreto e allora, fatemi sapere cosa ne pensate, perfetti anche per Halloween, per, senza il cartellino, magari, per arricchire qualche piccolo angolo vicino a delle candele in modo che si crei quel movimento nei punti giusti dove l'occhio possa indugiare e ritrovare attimi di atmosfera, attimi di atmosfera non mi veniva bene da dirlo, mi raccomando, se non lo avete ancora fatto, vi aspetto in tutte le librerie con il ricettario dell'arte e non lo dimenticate, non lo lasciate negli scaffali delle librerie, l'ho scritto con tanto amore, andatevi a prendere tutto il mio amore e allora, vi aspetto in tutte le librerie online ed Italia, vi metto il link per acquistarlo online proprio qui giù in infobox e vi aspetto anche su tutti i miei canali 2Q1K ombretta su Facebook per arte per te, su Instagram per arte per te, su TikTok per arte per te, bene, vi aspetto nel mio mondo social e nel mio mondo creativo per la prossima volta con un altro video un po' più complesso, ho voluto fare questo, devo dire la verità, così semplicino per abbracciare la creatività di tutti, anche di chi non ha voglia di mettersi lì ore a fare qualcosa, ma in pochi minuti avere tra le mani un oggettino carino con cui decorare la propria casa. pollice in su se il video vi è piaciuto fatemelo sapere tra i commenti. Da ombretta e da arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!